Abbiamo una scusa a San D'Ametrio in cui c'era il Presidente della Repubblica per ribadire il fatto che noi in Calabria abbiamo una grossa comunità al Bresco che conta molto e non solo al Bresco, in Calabria abbiamo altre comunità importanti. Ieri è stata veramente una festa e finalmente si è dato una visibilità a queste... ...certo, come vi riempiono. Leggamo conti finalmente sui progetti europei e poi c'è la ricerca...